piccolo cappello introduttivo già abbiamo fatto qualche puntata in passato di chiamiamolo tutorial di for honor anche se non è un tutorial vero e proprio più un prendiamo personaggi che non sappiamo usare mai usato prima e andiamo online e vediamo che succede era più basato a livello semplice visto diciamo visto diciamo come sta più o meno andando nelle ultime live che stiamo facendo anche in multiplayer adesso dovrebbe essere ecco qua dicevo io sto andando nelle ultime live anche sui multiplayer ci stiamo diciamo molti di voi ci hanno confessato insomma di apprezzare o meno il gioco ma fondamentalmente di non saperlo giocare di conoscerlo poco eccetera e quindi ho pensato sfruttando anche il fatto che io non è che sia chissà quanto esperto del gioco anzi però un minimo quanto meno le basi sento di averle comprese un minimo di padroneggiarle ho pensato ma perché a questo punto non fare una bella un bel tutorial fatto bene magari da postare anche su youtube in cui veramente diciamo spieghiamo le basi del gioco a chi questo gioco non lo conosce magari vorrebbe provarlo anche perché oramai si trova abbastanza poco in giro è stato già regalato almeno un paio di volte da uplay e un'altra volta l'epic game store per cui è anche abbastanza facile che ve lo troviate tra le mani ha detto perché non diciamo perché non impostare un tutorial fatto bene dalla base e per farlo ancora più diciamo credibile non userò il personaggio che avevo usato nelle volte scorse in cui avevo appunto fatto questa serie su prendiamo un personaggio che non sappiamo usare e vediamo come va prenderò un altro personaggio che non ho mai usato che non so usare e vedremo come andrà però questa volta cercando di spiegare di volta in volta le partendo dalle basi quali sono le varie anzitutto le meccaniche base poi le varie dinamiche per cominciare a fare i primi passettini allora ovviamente ce ne andiamo in molti giocatore diciamo che dovrei iniziare spiegandovi questa dinamica delle campagne ma in realtà non è che c'è poi tanto da spiegare in base alle vittorie e alle sconfitte che subite di volta in volta ottenete un certo qual numero di truppe che potete schierare su una mappa stile risico e a fine di ogni campagna che dura un certo tot di tempo la fazione che ha più territori e quindi più punti riceve dei premi come potete vedere in questo momento la mappa è abbastanza grande la zona montagnosa diciamo che in questo momento stanno vincendo i rossi che sono i vichinghi mentre i cavalieri che appartengono alla mia fazione sono quelli con meno territori in assoluto guardate guardate va bene noi ce ne andiamo in duello posso già fare il classificato no va bene torni continuo andiamo in duello 1v1 sperando di non beccare gente troppo forte contro allora chi ci ha visto giocare qualche volta in passato più o meno un'idea ce l'ha però facciamo finta che questa è veramente la prima volta in assoluto che vedete farono farono sostanzialmente se lo volessimo categorizzare un picchiaduro ma un picchiaduro in 3d ma non sullo stile classico di picchiaduro alla tekken mortal kombat che sono in 2d chiaramente qui si vedono diciamo delle ovvie differenze ma neanche di quelli 3d per dire per esempio alla alla naruto insomma i giochi dello stile naruto oppure c'è stato anche one piece burning blood oppure insomma come erano i vecchi budokai tenkaici oppure dragon block xenoverse non è di quella tipologia là c'è molta meno mobilità chiaramente i combattenti sono molto più pesanti c'è molta più attenzione sui colpi dati o subiti tra l'altro prenderemo come personaggio prenderemo il guardiano però devo essere per forza femmina no però dovrei personalizzare non fai torniamo la guardiana andiamo un po di un po sfruttiamo un po di girl power a devo mettere pronto allora siamo contro un altro guardiano bene premessa io non ho assolutamente ho proprio giusto una vaga idea perché l'ho vista usata contro di me di qualcuna delle combo ciao boschid buona serata come stai tutto bene dicevo giusto una vaga idea dico buonasera viking buonasera spero che il gioco di stasera diciamo tu lo possa apprezzare un po di più oggi pomeriggio è un problema se sono frocio no non è assolutamente un problema boschid perché mai dovrebbe esserlo tutto bene tutto bene ci fa piacere ci fa piacere a cosa dobbiamo il piacere di una di questa sua visita sul nostro canale viking a te tutto bene come stai allora dicevo non ho giusto una lontana e vaga idea di quali siano le combo di questo personaggio allora innanzitutto la base di questo gioco è tenere presente che il personaggio mi hai attirato tu a che bello mi fa piacere anche se non so come facevi a sapere io come fossi prima di allora ok siamo senza stamina allora dicevo sta tutto bene tutto bene grazie avevo pensato di fare di cercare di fare un video più o meno di tutorial per insegnare quantomeno le basi perché giusto quelle sono non per altro anche se non è è un profilo smurf e vabbè lascialo divertire lascialo divertire secondo round non fa niente dicevo stavo cercando di dire prima di venire massacrato la base di questo gioco la prima cosa da fare contro un avversario e puntarlo con il tasto l2 se notate quando tengo il mio avversario puntato se questo mi desse il tempo di spiegare sto pagando il fatto di non sapere le combo di questo personaggio l'ha detto ma vado a terra sì ok va bene dice sono su pc questa volta ho detto quando gioco da solo sono su pc puoi vedere che c'è un pochino più di cura grafica insomma all'interno del canale ho detto semplicemente che carino ma no nessun problema nessun problema divertiti i boschi ti divertiti dicevo stavo stavo dicendo non so se notate quando tengo puntato per il personaggio a questa freccetta bianca che punta può puntare sinistra destra in alto sono le tre stance di guardia anche se abbiamo beccato un personaggio diciamo un personaggio un giocatore abbastanza forte contro di noi che non ci ha dato nel tempo nel modo di spiegare quello che stavamo cercando di fare ti ringrazio boschi ti ringrazio un po una caratteristica mia di come in molti mi hanno detto che le mie live sono molto chill da vecchio quale sono scoperto che inteso appunto nel senso di live portate avanti con calma e tranquillità dicevo stavo cercando di farvi vedere troviamo un nuovo avversario che questo ci ha fatto il culo stavo cercando di spiegare mai attaccare quando sei senza stamina sì lo so hai ragione su questo hai ragione è stato un mio errore dovuto probabilmente alla fretta a qui con noi abbiamo the viking master fire che se si chiama master fire un motivo c'è uno dei giocatori diciamo più chiamiamole anziani del gioco nel senso che uno di quelli che gioca da più tempo se non sbaglio addirittura da inizio proprio da quando il gioco è uscito e ogni tanto viene qui sul canale c'è da un po di consigli per migliorare la tecnica per fortuna quantomeno vediamo se questa persona che becco contro mi dà modo di spiegare ma è sempre un non è un altro che di spiegare quello che stavo cercando di fare dicevo quella stanza in cui vedevate quelle freccette bianco la freccetta bianca che si poteva spostare nelle tre da quando uscito si perfetto si viking master fire gioca dall'uscita del gioco quindi è proprio un veterano di for honor e non so per quale motivo si è appassionato a vedere le nostre live su for honor pur noi essendo fondamentalmente abbastanza nabbi però però non proprio nabbissimi un'antecchia in più da almeno quello penso ce la meritiamo dicevo la stance di guardia determina sia la direzione in cui io attacco sia quella in cui io paro e la cosa simpatica è che posso vedere la stanza di guardia sua perché non ha schivato il mio personaggio scusate cerco di prendere un po di va sprecato un perri maledizione abbiamo fatto un perri no ho fatto l'errore di faccio sempre st erro di attaccare da stanco niente mi piace aiutare le persone che intraprendono questo gioco a questo ti fa molto onore viking molto onore sconfitta stavo cercando di spiegare insomma appunto quella direzione determinare sia le direzioni in cui parte il tuo attacco se la direzione in cui tu personaggio sta parando per cui se tu attacchi in una direzione e il tuo avversario sta parando in una diversione diversa o altra cosa che può succedere tenta il perri e lo sbaglio al colpo va a segno altrimenti viene parato come appena successo ed io qua paro ha fatto una finta paro ormai ho capito che quando carica l'attacco fa la finta perché continuo a premere quadrato madonna mia annaggia me comunque dicevo notate appunto quindi notate anche il fatto che lui mostra attaccando allora notiamo un paio di cose primo notate che la freccia quando lui attacca a un certo punto si carica di rosso quello il momento in cui premere r2 se state diciamo nella direzione giusta di parata per tentare un perri mi ha fatto un perri lui a me il perri sbilancia l'avversario per un attimo e lo rende preda del vostro prossimo attacco altra cosa che dovevo farvi notare a parte la cosa rossa ok è morto e avete notato che lui per fare quell'attacco che però ogni volta sta fintando diventa arancione quando l'avversario sta caricando un attacco arancione che sia un attacco e non uno stan vediamo tra un secondo che cos'è lo stan o deve deve venire schivato o deve venire parato con un perri quindi con una parata perfetta premendo r2 al momento giusto perché sono attacchi altrimenti imparabili ok per cui più o meno questa è la dinamica guardaci dalle spalle che intelligentone queste sono più o meno le dinamiche vedete adesso faccio un po di parate adesso l'ho sbagliata queste sono più o meno le dinamiche di attacchi e difesa base per cui molto importante appunto indovinare la direzione dell'attacco e quando possibile premere r2 al momento della parata per fargli il perri e poi riattaccare ok queste sono l'usta è stanco in tutto questo una cosa ok a questo punto ne approfitto ve la spiega adesso vedete che super il mio personaggio ci stanno due barre una barra bianca con le tacchette della diciamo della mia vita dei miei punti vita e la barra verde con la stamina l'energia e quella è una cosa che va gestita perché nel momento in cui l'energia finisce avete visto più volte il combattimento precedente su di me che succede a parte che si vede tutto grigio a parte che il tuo personaggio sbagliato dovevo schivare a parte questi qua che vedete che col simbolo dello scudo che lui fa sono degli stan ve ne parlo tra breve è questo qui per esempio uno stan imparabile che andrebbe lui continua a fintarlo questo attacco mi ha fatto un perri carino questo attacco non lo conoscevo ci ha fatto dicevo state notando insomma più o meno le dinamiche di attacco semplice nel lui sta facendo combo particolari né io assolutamente ne conosco perché il warden non l'ho praticamente mai usato adesso quello che vi vorrei spiegare diciamo al fatto della stavo finendo di spiegare il fatto della stamina niente quando si quando la stamina si esaurisce il tuo personaggio attacca molto lentamente se in caso subisce un per arriva a terra e vede tutto grigio ed è anche lente a muoversi chi ha fatto il controcorpo che non conosco in realtà per ri io sto cercando di insistere sulle dinamiche base continua a fintare una ma ce lo siamo imparato su attacco ci ha fatto un perri ma guarda che t'ho capito che finti è ci ha fatto il perri lui è senza stamina conviene approfittarne quando è senza sa abbiamo imparato una nuova mossa che non conoscevamo ci ha fatto il perri a maledizione non siamo stati abbastanza veloci certo viking master fire chiedi direttamente non porti mai problemi di questo tipo dice dice comunque in questo scontro più o meno ci siamo concentrati sulle dinamiche di attacco base adesso le meccaniche di questo gioco si basano diciamo su più o meno una trilogia di azioni che possono venire compiute che sono gli attacchi che chiaramente avete visto dividersi in attacchi veloci con r1 lenti quelli caricati con r2 tra l'altro io non l'ho fatto vedere ma gli attacchi possono essere caricati per più o meno tempo come si mettono i punti per il canale perdonami viking che cosa intendi come si mettono i punti per il canale che intendi come si mettono fammi capire un attimo la situazione perché non sono sicuro di come ti devo rispondere dicevo vi parlavo di una diciamo di un trittico più o meno di tipologia di azioni attacchi appunto legge pesante leggeri con r1 pesanti con r2 che possono essere più o meno caricati e inanellati in combo poi ci sta la dinamica del con cui ho fatto vedere anche chiaramente le parate e i perri poi c'è la dinamica dello stan anche se non so se non so se si in realtà è uno stan può essere più o meno pesante stan nel senso di stordimento che serve anche a spezzare la guardia quella e quell'attacco che voi vedevate quando compariva il simbolo dello scudo dello scudo rosso al centro del personaggio e poi c'è la dinamica della schivata queste sono più o meno le tre le tre azioni che vanno gestite poi ci stanno un paio di azioni avanzate appunto non avete visto che il perri appunto quindi il parare al momento giusto per sbilanciare l'avversario parare premere r2 io sul mio canale non c'è io invece due punti che puoi ricevere guardando la live viking ma tu sei già affiliato per questo ti chiedevo di descrivere la situazione perché è una cosa che si sblocca con l'affiliazione comunque le gestisci come tutte le cose penso tu non so quanto conosci twitch ma tutta questa roba si gestisce sarebbe scusa allora quando tu sei su twitch puoi avere ragazzi scusate interrompo un secondo tutorial di farò non lo spiego un secondo questa dinamica quando sei su twitch tu hai tre livelli che puoi essere puoi essere un semplice streamer livello base quindi diciamo con le funzioni base di twitch poi puoi essere affiliato o puoi essere partner e sia queste due posizioni diciamo questi due lì upgrade sui livelli successivi si sbloccano se devi devi rispettare determinate caratteristiche l'affiliazione in realtà sbloccarle abbastanza facile devi avere almeno 50 follower sul canale avere una media spettatori di tre tipo negli ultimi 30 giorni e le altre due sono abbastanza facili perché sono delle diciamo caratteristiche semplicemente che si col tempo si gesti c'è col tempo insomma si ottengono che sono devi aver streamato mi pare non ricordo per almeno 12 ore in totale e per almeno sette giorni differenti una cosa del genere se un momento in cui tu diciamo rispetti queste quattro caratteristiche automaticamente diventi affiliato diventare affidato significa uno sbloccare un po di funzioni aggiuntive quindi puoi avere le mot però le motte che hai dipendono da quante persone sono iscritte al tuo canale quanti sub hai già fatto mi mancano solo le prime due si ma sono le più difficili fondamentalmente realtà se vuoi un consiglio stupido è brutto però insomma se vuoi fare veloce per i 50 follower basta che fai un po di follow for follow fai subito la rottura di coglioni più che altro è la media di tre spettatori quello di avere almeno tre persone che ti guardano fisse e quello può essere un po più difficile però chiaramente diciamo avere l'affiliato di per sé non ti comporta qualche vantaggio per esempio sblocchi sound effect per sfizio se ti vuoi divertire clicca su quel simbolo viola dove si vede una specie di emot con le cuffie ciao riccardo buonasera vedi che ci sono i sound effect che tu puoi impostare una cosa che si sblocca con l'affiliazione un'altra cosa sono i punti e poi cominci a prendere qualcosina di soldi dalle pubblicità e dalle persone che fanno la sub al tuo canale non ti preoccupare riccardo ci fa sempre piacere averti qui tranquillo e niente questo in realtà la cosa veramente diciamo di l'obiettivo di tutti quanti è quello di diventare partner ma lì è molto molto complicato perché per essere partner devi avere una media di 75 spettatori al live a me interessano se devi diventare affiliato se ti interessano solo i punti basta l'affiliazione si sbloccano e poi li gestisci dal menu affiliato sempre oh volevi no l'ho schivato perché il mio personaggio ha deciso di ok quello che lui sta facendo sono gli stanni di spezza guardia di cui vi ho parlato anche questo in realtà lo è lui questo questo personaggio ha questo potere fondamentalmente gli stan o vanno schivati oppure nel momento in cui la persona vi colpisce con uno stand se premete immediatamente quadrato il tasto per farli perché si fanno e si parano con quadrato lo rispingete l'avete visto con la spallata mamma mia come mi sono fatto colpire male a ma lui è stanco quanto pare consumo parecchio per fare questi che cosa ok dici riccardo for honor che cosa dici dici secondo round comunque sulla dinamica dello stand non c'è uno dello stand non c'è troppo da dire nel senso che funziona così la cosa simpatica serve nel caso vi troviate vicino ai bordi del ring perché con lo sta no non è che ho detto non forono l'ho solo detto che ero da solo e ho chiesto alle persone di scegliere già che non c'è stata una scelta netta del gioco ho detto vabbè rimaniamo a programma ma perché non ti piace forono arti scoccia e che non c'è stata una proposta di un gioco da fare in alternativa a questo e quindi ho detto vabbè il programma era di fare for honor facciamo for honor in singolo e stavo pensando di fare un tutorial e stavo pensando di fare un tutorial base lì è proprio base base a base perché il gioco non lo conosce non lo sa giocare quindi spiegare quanto meno le meccaniche sarebbe simpatico farvi vedere spero di averne l'occasione qui c'è una grossa motosega quindi magari c'è si può buttare giù lo stun in realtà parte per far perdere un po di stamina all'avversario e da avere l'opportunità di un attacco che va a segno perché l'avversario il momento in cui viene stannato vedete lo posso attaccare lui non può fare niente il vantaggio viene anche dal fatto che potete spingerlo dove volete voi vedete io lo posso spingere sulla sega per esempio e continuare così oh cacchio mi sono stancato siamo entrambi stanchi ok finita ciao pocio buonasera se eri su play ti dava una mano grazie mille viking però sicuramente stando in singolo ho pensato di streamare la pc sia per i 60 fps sia per la grafica fatta meglio sul canale visto che ero da solo buonasera pocio buonasera comunque allora le prime due meccaniche ve le ho più o meno fatte vedere avete visto quando l'avversario lo spinto l'ultima che rimane da farvi vedere la schivata la schivata fondamentalmente è quello che si può intuire che può servire per evitare determinati tipi di attacco chiaramente se un attacco è un attacco di tipo spazzata a una spazzata laterale per esempio schivarla di lato non è effetto il corpo viate in faccia lo stesso se alla community va bene possiamo provare smash bros e va per me non c'è problema ragazzine ragazzi in chat ditemi se tra ditemi sempre tra smash bros e for honor cosa preferite votate comunque avevi detto che facevi quel gioco di auto oggi a sì è vero avevo detto che facevo il gioco di auto e possiamo fare tutto possiamo fare tutto siamo fare un po di ogni cosa non ti preoccupare vediamo un po vediamo un credo che ti vogliono su for honor su ps4 se c'è questa richiesta esplicita possiamo andare su ps4 ma si si vedrà peggio si sentirà peggio rispetto ad adesso comunque ragazzi fate sentire anche la vostra voce se arrivano richieste grande riccardo quale gioco per auto ora come siamo a forza horizon 4 non so se lo conosci anche se io non sono né amantissimo né bravissimo nei giochi di guida però quello è veramente un bel gioco fatto bene no è proprio sentito è probabilmente il miglior gioco di guida mai fatto nella storia secondo mio chiaramente non guida simulativa però insomma come ibrido simulativo arcade penso sia il migliore mai fatto comunque dinamica della schivata direttiamo e allora non è non fa per niente parte del mio stile di solito non schivo ha fatto una finta ok se abbiamo fallita la schivata ok riuscita ah questo qui ecco lo stan che andava contrastato ok schivata contrastato contrasto dello stan lui sta facendo finte ci ha fatto un perry contro perry vabbè non contro perry per rialzo attacco imparabile ah abbiamo sbagliato notate che lui ha quel perry quello stan che lui fa è imparabile ma se facciamo anche noi lo stan insieme ah non ho fatto in tempo a parare sentito ma non provato è per quello che volevo vederlo va bene va bene allora ora lo facciamo vedere viking 2 che tra i tre proposti tra foro lo smash bros e forza horizon 4 allora più o meno le dinamiche base le avete viste tutte rimane solamente una dinamica avanzata che è quello della finta su pc e no su xbox in realtà c'è anche su pc ma non l'ho scaricato è nel game pass allora l'ultima dinamica è quella delle finte che consiste nel premere cerchio mentre state caricando un attacco non è proprio la cosa migliore da fare mentre li attaccano ah peccato mi ci ero buttato in faccia va bene no non è forte sono io che non sto giocando beh a parte che il vanguard non lo so usare per niente ma poi sto facendo vedere più o meno le mosse quindi non è che sto combattendo davvero allora proviamoci vediamo che cosa ci riesce se ci applichiamo però ripeto il fatto di non conoscere le combo di questo personaggio non è positivo tipicamente uno stun perry ha schivato uno stun tipicamente se fai un attacco leggero lui non luce fallisce lo prende in faccia il fatto che prima mi sia riuscito di fargli uno stun nonostante stessa attaccando è perché l'aveva fintato ferri ok quando finite l'avversario con un attacco pesante potete scegliere premendo quadrato triangolo una delle due esecuzioni finale chiaramente poi andando avanti i personaggi se ne possono acquistare altre di esecuzioni di finisher via via più belle più o meno le dinamiche base del gioco sono queste poi è tutta una questione di riflessi e di tattica io per esempio non sono per niente abituato né a schivare né a fintare mi riesce molto mi devo forzare a farlo normalmente io gioco molto sul perry ah sono stanco ah non ci sono riuscito ok chiusa così viking secondo me l'abbiamo perso vediamo se riusciamo a ristabilire da 2 a 0 a recuperare 3 a 2 vediamo un po' sarebbe un simpatico modo per chiudere quinto round proviamoci ah non ve l'ho detto si corre si corre col tenendo premuto il tasto r3 grazie vedete io ho fatto lo stand lui l'attacco e ha vinto lui funziona così è un po' sasso cartoforbice questo gioco ok ed è finita qua signori ultima cosa da dirvi in merito ultima cosa da dirvi in merito alla questione For Honor è fondamentalmente questa ogni personaggio ognuna delle classi che voi vedete ha delle combo ben precise e ben specifiche un suo stile di gioco quanto favorito o meno ci sono personaggi veloci ma deboli personaggi lenti ma forti personaggi lentissimi e molto 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 forti personaggi ibridi classi varie per cui magari possiamo fare una serie di video successivi per magari una volta che li avrò sbloccati questi personaggi che non tengo sbloccato niente qua per farvi vedere un pochino meglio appunto le differenze tra ciascuno è fondamentale io cosa che non sto facendo perché sto comunque andando con un account di livello molto basso per cui incontro persone di livello basso in rete che non mi fanno particolarmente non mi mettono particolarmente in difficoltà ma è fondamentale di un determinato personaggio conoscerne le combo perché appunto diciamo è quello che fa la differenza tra un buon combattente un combattente a livello base come sono io se avete visto ho usato gli attacchi sempre singoli non ho mai fatto un combo di più colpi era attacco parata per ristan ma alla fine erano quelle nel momento in cui voi andate a conoscere per bene un personaggio dovete impararne ad usare le combo appunto quindi le sequenze di pulsanti vediamo forza sì sì adesso vediamo forza adesso vediamo forza datemi il tempo stavo facendo però non mi fate ragazzi non mi fate fare un discorso di chiusura al tutorial comunque datemi il tempo adesso chiudo qui allora anzitutto chiudiamo il gioco bella Riccardo bella Riccardo sempre forza allora un secondo fatemi collegare la xbox ok ce l'abbiamo ciao a tutti i